Musica Bentornati alla macchina del tempo Dobbiamo parlare dell'ultima volta, purtroppo, del 2001 visto che siamo già a dicembre E' stato un anno pieno Soprattutto pieno di notizie davvero clamorose come l'annuncio della SIGA A riguardo del suo ritiro dal mondo dei produttori hardware Infatti lascia campo a Sony, Microsoft e Nintendo Tutte le antenne dei videogiocatori sono proiettate esattamente verso la Microsoft Dato che c'è molta curiosità intorno alla Xbox, una nuova piattaforma che dovrebbe rivoluzionare la console world Senza dimenticare la Nintendo che con il Gamecube vuole riscattare il dignitoso comunque Secondo posto archiviato con il Nintendo 64 Nella precedente generazione, ovviamente Fra tanti punti interrogativi, una certezza La Sony, con la sua PlayStation 2, conquista il mondo Nonostante le più che valide specifiche di Xbox e Gamecube Diventa molto difficile per i concorrenti appropriarsi di una fetta di mercato Paragonabile a quella della Sony Su un binario completamente diverso, come al solito, c'è il PC Che se ne infischia della console world e si tiene stretto i suoi tanti appassionati Con giochi delle tipologie più disparate Quello che scorre sullo sfondo è Atlantis 3 The New World Avventura della francese Craio che segna però purtroppo quasi l'epilogo della carriera di questo importante publisher europeo Le meccaniche, come al solito, rimangono quelle alla miste, ovvero con schermate fisse Anche se c'è la possibilità di ruotare la testa Ed enigmi basati prevalentemente sulla logica Con molta poca importanza dedicata all'investigazione La protagonista è interpretata dalla figlia di Marcello Mastroianni Pensate un po', peccato però che la sua interpretazione sia davvero penosa Soprattutto in italiano Atlantis 3 dopo un po' è arrivato anche su console PlayStation 2 E va considerato un esperimento valido, soprattutto per gli appassionati di questo tipo particolare di avventura C'è il ritorno di un nome famoso, quello di Comanche Il primo episodio risale addirittura ai primi anni 90 ed era dedicato al DOS Si fece notare per la spettacolarità della grafica che però era basata su un motore voxel Che è rimasto alla base del gioco fino al terzo episodio della serie Quindi questo è il primo gioco di Comanche interamente poligonale Non c'è dubbio sul fatto che la grafica rappresenti uno dei maggiori predici di questa produzione Anche le meccaniche però sono una parte importante del successo Perché Comanche è da sempre una simulazione di elicotteri piuttosto accessibile un po' per tutti Da notare purtroppo con un po' di malinconia Che si tratta anche dell'ultimo Comanche di sempre Aether Lords della russa Naval Interactive È una delle implementazioni più intelligenti e più riuscite del concetto di gioco di Magic Sì, proprio il gioco di carte La differenza è che qui avremo anche una mappa Nella quale aggirarci, un po' come in Heroes of Might and Magic Che, non a caso, è stato affidato proprio a questo team negli anni recenti Quando incontreremo dei nemici la visuale cambierà, sarà molto più ravvicinata E dovremo fronteggiarci su un campo di battaglia lottando appunto con i poteri speciali derivanti da queste carte Titolo molto impegnativo e molto cerebrale Ma anche estremamente giocabile Peccato che la difficoltà sia un po' sbilanciata in alcune fasi Inoltre, nonostante in questo tipo di gioco la grafica non sia assolutamente una parte fondamentale della produzione In Everlords è davvero gradevole, così come le musiche Davvero un bel gioco Nella macchina del tempo di novembre abbiamo parlato di Wing Commander 2 per PC Una simulazione di volo spaziale decisamente semplificata, molto arcade Che era tutta focalizzata sui combattimenti In realtà c'è anche un'altra via, anzi anche altre vie di interpretare l'idea di una simulazione spaziale Ed una variante ce la propone Battlecruiser Millennium che stiamo osservando in queste immagini È un titolo straordinariamente complesso Questo perché cerca di interpretare la simulazione di volo spaziale come qualcosa di più realistico possibile Difatti avremo una plancia che andrà gestita tramite la pressione di numerosissimi tasti Si dice addirittura 120 Per appunto accedere a tutte le funzioni della nostra nave È il seguito di Battlecruiser 3000 AD Che è stato un videogioco dalla gestazione davvero molto travagliata Questo seguito è molto più lineare, molto meno innovativo del suo predecessore E di conseguenza è stato anche meno amato dal pubblico Questo titolo purtroppo soffre di difetti molto evidenti Come una grafica molto obsoleta Un ritmo decisamente lento E tanti bug che sono oggettivamente ingiustificabili Vista anche la lunga gestazione appunto del gioco Anche in questo caso si tratta dell'ultimo episodio di questa saga Fatta eccezione per l'edizione Gold di questo Millennium Che ha semplicemente implementato alcuni aggiornamenti Che migliorano l'esperienza generale L'orribile grafica precalcolata che sta scorrendo sullo sfondo È quella della presentazione di Gora sul Legacy of the Dragon Si tratta di un gioco di ruolo occidentale Che voleva mettersi in scia a Baldur's Gate Che godeva di grande popolarità in quel periodo Purtroppo lo spunto e quello giusto Non l'esecuzione Prodotto da una compagnia tedesca Ma sviluppato interamente in Polonia Questo Gora solo lascia trasparire la totale inesperienza Di questi ragazzi con i giochi di ruolo Non si può assolutamente considerare un buon prodotto In senso assoluto Tuttavia poteva essere un buon riempitivo Per quelli che non riuscivano a passare Neanche un po' di tempo senza un western RPG Purtroppo come molti altri contemporanei Questo Gora sul soffre di bug veramente letali per il divertimento Il gioco si blocca in continuazione Ci sono numerosissime imperfezioni Di conseguenza serve pazienza anche per questo Bello però il tema musicale principale Il maghetto più famoso della letteratura sbarca anche sui PC Con Harry Potter and Philosopher's Stone Ovvero Harry Potter la pietra filosofale in italiano Anche se il titolo non è mai stato tradotto nel nostro idioma Sugli scaffali locali E un third person shooter Ovvero uno soprattutto in terza persona Anche se il suo target è Chiaramente focalizzato molto bene Sui bambini Oppure comunque sui ragazzi molto giovani Cioè nonostante è presente una grafica Interessante Sebbene non a livello delle grandi produzioni di questo tipo E come sempre non mancano neanche puzzle e sottogiochi vari In Inghilterra forse lo definirebbero Evre Cioè avere un titolo medio Ed in effetti è proprio quello che è Buona grafica Sonoro nella media Sfruttamento non eccezionale della licenza Ma neanche particolarmente negativo Adatto ai fan del maghetto Gli altri magari potrebbero trovarlo un po' banale La One Sea Company ci propone IL-2 Sturmovik Un simulatore di volo della seconda guerra mondiale Che analizza il fronte meno popolare Potremmo dire Di questo terribile conflitto Ovvero quello polacco e russo Quello più ad est Non è un caso di conseguenza Che il nome del gioco faccia riferimento Ad uno dei velivoli più celebri Della flotta russa Mentre il panorama generale Delle simulazioni di volo Fronteggiava un calo di popolarità Impressionante Che quasi stava conducendo Alla scomparsa del genere La One Sea Company è riuscita a fornire Una simulazione di volo Veramente divertente Curata E gradevole anche da un punto di vista tecnico IL-2 Sturmovik Può essere considerata Una hit a sorpresa Il successo è stato notevole E anche oggi Viene considerato Uno dei migliori simulatori Della seconda guerra mondiale Da molti critici Inoltre È ancora piuttosto gettonato Dagli appassionati Nel tempo Si sono seguite espansioni Che hanno riguardato Non soltanto Il conflitto Sul fronte orientale Ma anche altri Compreso quello pacifico In cui al giocatore Veniva concessa L'opportunità di Vestire i panni Dei kamikaze Il titolo di cui parliamo ora È davvero Molto poco spettacolare Si chiama Capitalism 2 Ed è programmato Da un nome celebre Nel mondo del gaming PC Trevor Chen Si tratta di un individuo Con conoscenze impressionanti Nel campo della finanza E dell'economia E le ha volute mettere Tutti a disposizione Del videoludo Difatti Questo capitalism 2 Come il predecessore Si occupa Della materia finanziaria In moltissimi aspetti Cerca di abbracciarli Davvero tutti Naturalmente Molta meno cure Riposta Nel comparto estetico Che si rivela Semplicemente funzionale Alle operazioni Che dobbiamo effettuare Per fortuna Ovviamente Questo ha comportato Anche una configurazione Richiesta Più leggera Della media Se cercate Spettacolarità Questo è assolutamente Il titolo sbagliato Mentre è molto Molto Seducente Per tutti quelli Che vogliono magari Anche solo Approfondire Questi tempi moderni In cui La materia economica È assolutamente In primo piano Il fatto che goda Di ottima reputazione Tra gli appassionati Del genere È sicuramente Un buon segno di qualità Dragon's Lair Dragon's Lair era nato Nel clamore generale Nelle sale giochi Che si presentava Come un filmato Da seguire Nel quale poi Effettuare alcune mosse Al momento opportuno Per far proseguire Appunto il video La gente Lo amava O lo odiava Questo perché Era richiesto Un forte lavoro Di memorizzazione Di ogni punto E un timing Assolutamente perfetto Per non morire Le conversioni Furono adattamenti Più o meno fedeli Del coin op Un po' meno Su computer Ma anche quelle Furono molto Controverse Non poteva che Rimanere nella stessa linea Anche Dragon's Lair 3D Che cercava di portare Il brand Su un binario Mai percorso prima Questo è un platform 3D Più precisamente Un action adventure Dato che ci sono Alcuni enigmi Da risolvere Anzi Un bel po' E anche questo Molto difficile Può essere Anche tanto frustrante Tuttavia Per gli appassionati Del coin op È stata una buona notizia Anche perché Hanno ritrovato Una certa filosofia Di fondo Similare La grafica È molto curata In cell shading Ed anche la parte musicale È più che valida L'unico problema È che Se vi piacciono I platform Non vuol dire Che vi piacere Anche questo Dragon's Lair 3D Sono molto diversi Le differenze con Mario 64 Sono abissali È un'esperienza a parte Ma comunque Consigliata Dopo il debutto su PC Questo Dragon's Lair 3D È arrivato anche su PlayStation 2 Gamecube Ed Xbox Chi come me Ha amato Dune Sia nella versione cartacea Che nel videogioco Del 1991 Proposto dalla Graio Non poteva che scodinzolare All'idea di rivederne Una nuova versione Nel 2001 A ben 10 anni di distanza Con tutto il progresso Tecnologico Che c'era stato Sempre lo stesso publisher Francese Che come abbiamo anticipato Versava in condizioni Critiche Finanziarie E creative Produce una vera e propria Oscenità Lo spunto Per darvi un'idea Più concreta possibile Della superficialità Con la quale è stato svolto Questo lavoro Ce la dà il titolo stesso Frank Herbert's Dune Peccato che Frank si scriva Con la sola K Senza la C Quindi il primo Strafalcione E addirittura Nel titolo del gioco Nella schermata iniziale Sulla confezione Possiamo immaginare Quanto possano essere Ottimizzate Le meccaniche Del gameplay Che dovevano riguardare Una sorta di clone Di Metal Gear Solid Semplicemente Improponibile Ed è un peccato Perché la grafica Anche se in alcuni casi È davvero triste Basti osservare I volti tutti uguali Dei personaggi Ha alcuni buoni momenti Ma soprattutto C'è ancora Una sceneggiatura Di altissimo spessore A fare da Canovaccio al tutto Anche se Questa versione Di Dune Che è praticamente Abbastanza Un telefilm Uscito in quegli anni Non è la migliore In assoluto Qualche è certo Che dopo giochi del genere Dispiaceva un po' Meno della triste fine Della Craio Questo è Schism Due piloti aerospaziali Devono fronteggiare Dei problemi meccanici Sulla loro nave Che non riescono a risolvere L'unica salvezza È quella di fuggire Con dei pod specifici Che li fiondano nel cosmo E successivamente Nell'orbita di un pianeta vicino Da prima separati Dovranno risolvere Numerosi enigmi Per ricongiungersi E quindi Risolvere l'avventura intera Un titolo molto spettacolare Nonostante sia Comunque il solito gioco Alla mist Proprio come Atlantis 3 Che abbiamo analizzato prima La grafica è davvero Molto ben fatta E si spalma su ben 5 cd Non pochi L'ottimo comparto estetico Fra l'altro Fa molto bene Anche all'atmosfera E in giochi come questo È davvero fondamentale Interessante spulciare Cosa ha detto la critica Con IGN Che gli dà Soltanto un 30 centesimi Dicendo che il gioco È ridicolosamente difficile Ed altri come Just Adventure Ovvero specialisti Della categoria Che gli danno La massima votazione possibile Insomma un titolo Non per tutti Estremamente impegnativo Ma capace di garantire Grosse soddisfazioni Non sarà arrivato Con il blasone Di alcuni colleghi Sul console Ma Rally Trovi Si è rivelato davvero Un ottimo titolo di rally Lo sviluppatore del resto È la Bugbeer Ovvero quelli di Flatout Ed anche di Sigarelli Revo La peculiarità Di questo titolo È di concentrarsi Sullo sfruttamento Di auto d'epoca Ci sono 11 vecchie macchine Da controllare Su percorsi sterrati Ed accidentati E questo è sicuramente Molto divertente Anche perché La qualità della simulazione È apprezzabile Non siamo di fronte Ad una grafica Di altissimo profilo Ma comunque Fa più che dignitosamente Il suo dovere Insomma Un'alternativa Più che convincente Al solito Colin McCree Rimaniamo in tema Offroad Ma con un altro titolo Che comunque È piuttosto popolare Dalle nostre parti Quello di Screamer Qui con l'episodio 4x4 Da noi È popolare Perché i primi episodi Erano stati curati Dalla Graffiti Milestone Interactive Un team assolutamente Italianissimo Tuttavia Questo nuovo episodio È curato da un team Ungherese Chiamato Cleaver Che svolge un lavoro Assolutamente diverso Da quello della Milestone Difatti È molto più simulativo E perde completamente Lo spirito degli originali Soprattutto di Screamer Rally Programmato ancora Dai ragazzi italiani Non vuol dire però Che questo sia un cattivo prodotto Anzi Secondo alcuni Rimane tra le simulazioni Di fuoristrada Più accurate di sempre Ovviamente Non c'è più la solita struttura Alla Outrun Potremmo dire Ma un mondo aperto Nel quale passare Attraverso alcuni Determinati checkpoint A noi starà Trovare la strada Più veloce Per raggiungerli Insomma Non aspettatevi più Un arcade Ma comunque Un gioco Che potrebbe interessarvi Come ben sappiamo Il panorama degli RTS Gli strategici In tempo reale È sempre stato Sovraffollato Ma soprattutto In questi primi anni 2000 Di conseguenza Lo sviluppatore Storm Region Per Swine Cerca di implementare Qualche cosa di Inedito Innanzitutto Comincia con L'eliminare dalla scena L'abusatissima Razza umana Che viene rimpiazzata Da diverse specie animali Un'altra novità Meno stilosa Ma più D'impatto Sul gameplay È La cancellazione Di qualsiasi tipo Di risorsa Economica Oppure Mineraria Per costruire Nuove unità Oppure edifici Infatti Dovremmo fare affidamento Sui cosiddetti Mission Point Ovvero Dei punteggi Dei crediti Che ci verranno Assegnati Dopo aver conseguito Determinati obiettivi L'iter delle missioni Di conseguenza Presenta un sapore Molto più fresco Che è stato molto apprezzato Sia dalla critica Che dai giocatori È importante anche Ricordare come La Storm Region Abbia dichiarato Freeware Questo Swine Ed è possibile Scaricarlo gratuitamente Direttamente Dal sito dello sviluppatore In una lontana terra misteriosa Si consuma un terribile conflitto Fra orchi ed umani La tragica situazione Richiede una certa abbondanza Di risorse minerarie E lo stato I governatori Del luogo Decidono di Costringere Dei prigionieri Dei criminali A lavorare Sotto costruzione Per farlo Hanno chiesto A dei potentissimi maghi Di creare una barriera Intorno alle miniere In modo tale Che essi Non possano scappare Come al solito Le cose non vanno Per il verso giusto Di conseguenza La barriera Si allarga A dismisura E finisce Con l'imprigionare Gli stessi maghi Con tutto ciò Che ne consegue Noi impersoniamo Un ragazzo Da prima Senza esperienza Che poi dovrà Ovviamente Come al solito Farsi carico Della situazione E risolvere Ogni questione Per chi non lo conoscesse Stiamo parlando Di Gothic Un titolo Sviluppato da Un team tedesco Che si chiamava Piranha Bytes E' stato un titolo Di grande successo Un po' a sorpresa Anche lui Giunto sul mercato Mentre tutti Stavano guardando An nomi più altisonanti Provenienti dal panorama console La libertà di movimento E' più contenuta Rispetto ad altri Campioni dello stesso genere Ma la giocabilità E' decisamente notevole E' rimasto per quasi un anno Confinato al solo territorio tedesco A causa di barriere linguistiche E' arrivata questa traduzione In inglese Che ha aperto le porte A tutti Davvero un bel prodotto Alternativo a molti altri Giochi di ruolo Nonché probabilmente Migliore di alcuni suoi seguiti E con Gothic Si chiude anche La nostra escursione Nel panorama Windows E' tempo di console Portatili E non Partiamo come al solito Dal Game Boy Advance E per non farci mancare niente Da un bel gioco di pesca Questo è American Bass Challenge Della Starfish Pubblicato dalla Ubisoft in Europa E noto in Giappone Come Black Bass Non è che ci sia molto da raccontare Possiamo accennare al fatto Che la critica Ha accolto abbastanza bene Questo videogioco Con votazioni leggermente Superiore alla media La grafica è carina L'impostazione è Pseudo-isometrica E possiamo dire Che non manca niente Di quel che ogni gioco di pesca Dovrebbe avere Tra cui Tanti tipi di pesci Tanti laghi E così via Il Game Boy Advance Quindi si prende Il suo Simulatore Per gli appassionati Di ittica Ma Chiaramente Saranno molti di più Quelli indifferenti A questo genere C'è davvero bisogno Di commentare Questo gioco? Forse no Ma comunque Proviamo a dire Qualche parolina Dunque Questo è Tetris Worlds La versione L'ultima versione Almeno per quanto riguardava Il 2001 Ovviamente Dell'immortale Puzzle game Di origine russa Qui abbiamo Nuove modalità Inedite Una grafica Più colorata Meglio animata Con dei fondali Abbastanza vivaci E tanta altra roba Forse assolutamente Ininfluente Per un classico Di questa portata Per concludere Tetris e Tetris Adesso c'è anche Su Game Boy Advance I fan saranno stati Felicissimi Della cosa Ma Prima o poi Sarebbe arrivato Lo sapevano tutti E questo signori E questo è un gran giocone Parliamo di Wario Land 4 Primo episodio Di questo strano Eroe Videoludico Su Game Boy Advance Insieme a Bowser Wario è uno dei personaggi Più cattivi Dell'intera Cultura Nintendiana Ed è davvero Spassosissimo Perché la sua Cattiveria Fa il paio Anche con una certa Goffaggine In alcune situazioni Davvero un Carattere irresistibile La serie di Wario Land Non entra in contrapposizione Con Super Mario Land Anzi È davvero diversa Perché qui Tutto è Sempre un Platform game Bidimensionale Ma È comunque Molto più orientato Alla struttura puzzle Ogni livello È un piccolo rompicapo C'è sempre dell'azione Ci sono degli oggetti Da raccogliere Però dobbiamo anche Riflettere E cercare di risolvere Alcuni piccoli rompicapo Che davvero Possono essere Anche parecchio impegnativi Questo quarto episodio È fatto davvero Come si deve C'è un'ottima grafica Un umorismo Quasi irresistibile Ma Ha un solo difetto Piuttosto evidente Rilevato da Praticamente tutti i recensori Quello della lunghezza Non è Un campione di longevità La sfida c'è Non è cortissima Ma comunque Si sono visti Esemplari decisamente Più Capaci di garantire Un interesse a lungo termine Ecco Una piacevolissima Variante del genere platform Oggi come allora Consigliatissimo Siamo arrivati alle console Da gustarsi dalla comodità Del proprio divano E partiamo dalla Xbox Precisamente da Azuric Unica esclusiva Xbox Del mese È un titolo molto particolare Nel quale controlliamo Una sorta di Alieno Blu Antropomorfo Comunque Con dei poteri speciali Magia Potremmo dire Infatti potrà controllare Acqua Fuoco Vento I soliti Poteri elementali Lo sviluppatore Si chiama Adrenium Games E non è molto famoso Anche perché ha prodotto Soltanto tre videogiochi Tra l'altro Non trascendentali Questo stesso Azuric Fra l'altro Non è che sia stato Particolarmente gradito Da critiche ai giocatori Nonostante Si è diventato Piuttosto famoso Anche perché Chiaramente Era una delle primissime Esclusive Xbox Cioè nonostante Questo gioco Di difetti Ne ha tanti In primis Un motore grafico Che proprio Non rende giustizia Alla potenza Della macchina Di fatti Le texture Sono di pessima qualità Le animazioni Sufficienti Ma nulla di clamoroso E il gioco Comunque Anche esso È poco divertente Sembra realizzato Con fretta Forse perché Volevano Arrivare sulle Xbox Nelle prime settimane Di vita Un'esclusiva Poco esclusiva Peccato Magari non ci scommetterei Ma forse uno dei maggiori promotori Della letteratura cinese Nel mondo occidentale È Dynasty Warriors Che qui arriva Con il suo terzo episodio Dico questo Perché è basato Sul romanzo Dei tre regni Che è una delle opere Appunto più importanti Del patrimonio Culturale cinese Dynasty Warriors Sin dai suoi primissimi episodi È stato molto criticato Per quanto anche amato Da un'altra Altrettanto abbondante Fetta di giocatori Questo perché Questo titolo Mette il giocatore Nella condizione Di impersonare Un eroe Di questo romanzo Che ha dei poteri In combattimento Assolutamente straordinari Quindi ha la possibilità Di affrontare da solo Interi eserciti Ed avere anche la meglio Nonché contare Su numerosi poteri speciali Il gameplay però Rischia di risultare È spesso monotono Specialmente per chi Non ha la pazienza Di addentrarsi Con la dovuta cura Nelle meccaniche Il modello Di Dynasty Warriors Comunque È sopravvissuto molto bene Alla prova del tempo Di conseguenza Alcuni aspetti positivi Certamente ci sono In questo terzo episodio La formula È quella molto simile Che conosciamo Ancora oggi Ma si distingue Una qualità grafica Migliorata rispetto Al secondo episodio Ma che presenta ancora Un bad clipping Piuttosto evidente Ciononostante Il succo del gioco È ancora quello Ben noto Il gioco È nato su PlayStation 2 Ma convertito Con circa un anno di ritardo Anche su Xbox Veniamo ora Ad un'esclusiva Sony Che era forse Anche la più temuta Da parte dei rivali Parliamo di Final Fantasy X Semplicemente Incontrastabile Per chiunque Vista la popolarità Del brand In quegli anni Dopo gli straordinari Successi Del 7 E dell'8 Questa produzione Presenta molteplici Aspetti Importanti Innanzitutto È il primo Final Fantasy Interamente tridimensionale Non ci sono più Le schermate 2D Nelle quali muoversi Qui tutto È poligonale E texturizzato Anche se non sempre Particolarmente fluido La storia è stata Oggetto di critiche Ma non erano Ancora i tempi In cui i giocatori Erano irritati Dalla monotonia Dei Final Fantasy Tuttavia qualcuno Si è lamentato Di una certa Lentezza Della storia E dei dialoghi Ma comunque I giudizi sono stati Generalmente Molto ma molto positivi Per darvi un'idea Della trepidazione Intorno a questo titolo Vi dico che I preordini del gioco Toccarono quota Un milione e mezzo Quasi il doppio Di quanto avvenuto Con Zelda Skyward Sword Per darvi L'esempio più recente Il gioco comunque In generale Meritava Anche se Non è piaciuto a tutti Carina comunque L'implementazione Di un gioco All'interno del gioco Parliamo del Blitzball Che è una disciplina sportiva Nella quale Il nostro avatar È un campione Per concludere Questo Final Fantasy È un Final Fantasy Classico Del genere Che abbiamo spesso Criticato Negli ultimi anni Tuttavia Visti alcuni episodi Recenti Viene quasi Da rimpiangerli La serie di SSX Arriva già al secondo episodio Con Tricky Ma in realtà Si tratta di un mezzo seguito Dato che È praticamente Lo stesso gioco Con pochissime aggiunte Inizialmente È una esclusiva Gamecube Ma soltanto per un mese Dopodiché arriverà Anche la conversione PlayStation 2 Che sarà praticamente Identica Dopo altri pochi giorni Arriverà quella Per Xbox E poi addirittura Un episodio Per il Game Boy Advance Che sembra molto divertente Giocabilità perfetta Colonna sonora Azzeccata E addirittura Partecipazioni Per dare le voci Ai protagonisti Di questo gioco Che hanno chiamato In causa Addirittura La star Lucy Liu Uno splendido gioco Per i possessori Di Gamecube Ed Xbox Un po' meno Per chi aveva Una Playstation 2 Dato che Era quasi superfluo Vista la somiglianza Con il primo SSX Due nuovissime simulazioni Di calcio Arrivano sul mercato Ed indovinate un po' Come si chiamano FIFA e PES Strano Cominciamo dal titolo Della Electronic Arts FIFA 2002 Non è un cattivo gioco Anzi Il suo peggior difetto Si chiama semplicemente PES Questo gioco Non riesce a competere Con il capolavoro Della Konami Ma tuttavia Riesce ad imporre Alcune novità Valide Come ad esempio Una nuova gestione Dei passaggi Che prevedono Una barra Che permette Di dosarli Molto meglio Prima infatti Era decisamente difficile Utilizzare i passaggi Filtranti La grafica È sicuramente Al passo con i tempi E rappresenta Uno dei migliori aspetti Della produzione Chiaramente Bisogna fare un discorso Diverso per i possessori Di Playstation E per quelli PC Se sulla console Sony Infatti C'era un rivale Quasi inattaccabile Sui sistemi Windows C'era una concorrenza Assai meno fornita Di conseguenza Era un acquisto Quasi obbligato Per le appassionate di calcio Una piccola curiosità Che oggi fa quasi ribrezzo Alcune squadre Non hanno la licenza ufficiale Di conseguenza I giocatori sono Palesemente inventati Ed eccolo qui Il nemico giurato Giapponese Di una vita PES Arriva sulla Playstation 2 Per la prima volta Ed è Una notizia sensazionale Per i possessori Di questa console Finalmente Possiamo assistere Ad una grafica In alta definizione Con dei filtri Che la rendono Decisamente migliore Ed animazioni Molto più accurate Dopo alcuni episodi Semplicemente straordinari Sul finale di carriera Della Playstation 1 Questo arrivo Sulla seconda edizione Della console Sony È assolutamente Da promuovere Tutto ciò Che di buono Avevamo conosciuto In passato È stato mantenuto E la tecnica Molto migliore È un plus Decisamente gradito Era meraviglioso Ritrovare quella Sensazione di controllo Sui giocatori E sulla partita Che permetteva Sin dalle prime ore Di pratica Di costruire azioni Che seguivano La nostra volontà Difficile definire Questo primo Pro Evolution Soccer Una simulazione Di calcio Era piuttosto Un arcade Molto ben strutturato Ma comunque Un classico Assolutamente imperdibile Ed è stato anche Una delle esclusive Più preziose Per la Playstation 2 Forse il nome Della Acclaim Seltenham È piuttosto Anonimo Molto meglio Parlare di Probe Entertainment Un team Che negli anni 90 Ha fatto furore Con conversioni Giochi originali Davvero molto gradevoli Il cambio di nome Avvenne quando Il loro publisher Di riferimento La Acclaim Li acquisì Qualche Non interessa Comunque È che essi Siano gli sviluppatori Di Extreme G Una saga Iniziata su Nintendo 64 Si distinse Per alcune somiglianze Con Wipeout A causa Della grafica E dell'imitazione Futuristica Per il quale Fu tra l'altro Un rivale Degno di nome Peccato Che Soffriva Di una grafica Piuttosto scattosa Soprattutto Nelle versioni PAL Ciononostante La serie Extreme G Ebbe abbastanza successo E si guadagnò La strada Anche per la generazione Successiva Questo terzo episodio Venne prima Realizzato per Playstation 2 E poi convertito Giustamente Vista la sua origine Nintendiana Per Gamecube Peccato però Che sulla Playstation La grafica fosse Un po' scattosa Molto meglio Qui sulla console Nintendo Dove il rendering Decisamente superiore Un bel gioco Di corse Peccato che poi Questa serie Si sia un po' Persa per strada Così come il suo Publish Un po' scattoso Tarzan Freeride È la trasposizione Videoludica Della pellicola Che circolava Nei cinema In quell'epoca Realizzata Da Disney Un bel cartone animato Che purtroppo Fa rimpiangere Invece Le conversioni Realizzate Dalla Sega E da Capcom In altri tempi Questo tie-in Firmato Ubisoft Infatti Pur non essendo Un cattivo gioco In senso generale Non è assolutamente Degno Di alcuni suoi predecessori È abbastanza standard Prevede un'azione Bidimensionale In ambienti Tridimensionali Comunque Un po' Alla clonoa Con un'azione Abbastanza banale Segue con una certa fedeltà Gli avvenimenti Visti nel film E ci sono anche Alcuni spezzoni Presi direttamente Dall'originale Licenza prestigiosa A parte Un videogioco Che non è stato Capace di emergere Per altri motivi Passiamo ad un vero Campione Della faccia tosta Bisogna dire Che c'è Ispirazione E plagio Vero e proprio Bene Wave Rally Appartiene sicuramente A quelli che Si ispirano Alla seconda categoria Difatti È un clone Abbastanza spudorato Di Wave Race Per Nintendo 64 A partire dal nome Anche qui Dobbiamo controllare Delle moto d'acqua E passare tramite Determinate porte Esattamente come Quello che abbiamo Dovuto fare Nei capolavori Nintendiani Peccato però Che la Eidos Interactive Non sia riuscita A catturare Anche l'anima Del gioco Infatti qui Ci sono dei bug Dei controlli Meno precisi Una telecamera Alquanto discutibile Di conseguenza Wave Race Rimane un capolavoro Questo qui Non li si avvicina Nemmeno È uscito Solo su PlayStation 2 Dove era noto Anche con il nome Di Jet Ski Riders I Simpsons Si sono imposti Come un cartone animato Molto originale Decisamente di rottura Purtroppo Lo stesso Non si può dire Dei videogiochi Ad essi dedicati Difatti Per esempio Questo The Simpsons Road Rage La Road Rage È praticamente La furia Che i guidatori Provano al volante Non può essere considerato Neanche per sbaglio Un videogioco originale Infatti È copiato Integralmente Da Crazy Taxi Ma davvero Vi sono missioni Che sono quasi Indistinguibili Dall'originale Per fortuna È anche una formula Molto collaudata E molto amata Dal pubblico Di conseguenza Questo The Simpsons Road Rage Risulta anche Uno dei migliori Videogiocchi Dedicati a questa Bizzarra famiglia Meglio originale O divertente Forse In questo caso La seconda opzione È preferibile Fra l'altro Qui è anche presente Una grafica Piuttosto dignitosa Questo titolo È stato pubblicato Inizialmente Per PlayStation 2 Ma è arrivata Immediatamente Anche una conversione Per Xbox E Gamecube I Simpsons Non potevano Che raggiungere Ogni piattaforma La Claim Nel 2001 Poteva vantare La licenza Ufficiale Del Wrestling Però Cercò di produrne Anche un videogioco Con una formula Speciale Legends of Wrestling Nel quale Potevamo Controllare Le vere Star Degli anni passati Di questa Pseudo disciplina Sportiva Ritroviamo quindi Hulk Hogan Ovviamente Ma anche The Ultimate Warrior Andre the Giant E moltissimi altri Una bella idea Che però Non è stata Supportata Da un lavoro Altrettanto valido Per quanto riguarda Il gameplay Dato che il motore Di questo videogioco È piuttosto lento I combattimenti Sono macchinosi Poco emozionanti Rispetto anche Ad altri stessi episodi Programmati dalla Claim Ciò che si salva Ma poi Anche tanto È la modalità Carriera In quale possiamo Crearci il nostro Wrestler E appunto Affrontare una serie Di incontri Che possono condurci Al titolo di campione È solo un tentativo Il mio Di cercare qualcosa Di positivo In questo gioco Dato che la critica All'epoca È stata piuttosto Spietata Ricordo anche Che questo gioco È stato pubblicato Per tutte e tre Le principali console Quello degli Stormfront Studios È sicuramente un team Di ragazzi capaci Che hanno anche avuto Una certa predilezione Per il cambio Repentino di genere Infatti sono passati Con una certa disinvoltura Da giochi sportivi Come i Meden A Hack and Slash Come Demon Stone Con Legend of Alondar Cercano di percorrere La strada del gioco di ruolo Con risultati Purtroppo Meno che mediocre Basta guardare la grafica Che è Veramente indescrivibile Orribile Veramente bruttissima Poligonale Texturizzata Ma fatta Malissimo Per quanto concerne Le meccaniche di base Basta segnalare Che non siamo Molto distanti Dai classici JRPG Anche se questo titolo È occidentale Comunque più debitore Verso la cultura giapponese Che presentano Dei combattimenti a turni Non particolarmente Ben fatti Anzi L'unica cosa buona Forse È la mappa di gioco Che è abbastanza estesia Che quindi garantisce Una certa longevità Ma nulla di clamorosa Anche in questo caso Tanto Chi avrebbe Il coraggio Di continuare L'avventura In una bruttura Del genere Uno dei pregi Della Playstation 2 È stato quello Di aver proposto Agli appassionati Di giochi di ruolo Quasi ogni mese Qualche episodio interessante In questo caso Parliamo di Shadow Hearts Un videogioco sviluppato Da un team Quasi sconosciuto Chiamato Seknot Una piccolissima Compagnia giapponese Che cerca comunque Di offrire qualcosa Di inedito Come l'ambientazione Infatti Essa si colloca Attorno al 1913 Ma anche la sceneggiatura È peculiare Come vediamo C'è sicuramente Qualche sfumatura horror Un po' splatter Ma il gioco Vive molto Sul contrasto Tra tragico E comico Di fatti Ci sono anche Sezioni Molto divertenti E spiritose Non si può Definirlo Un grande esponente Del suo genere Assolutamente Ma comunque Era un titolo Con qualcosa Da raccontare Con nuove idee Da proporre E questo Certamente È un fattore positivo Magari Qualche appassionato Potrebbe cogliere L'occasione E riscoprirlo oggi Cosa ne pensate Di un videogioco In cui l'unico scopo Del giocatore È quello di gestire Al meglio Una fattoria Coltivando verdure Parlando con gli abitanti Del villaggio vicino Insomma Godendosi La parte più sana Del lavoro Del buon contadino Diciamo che Potrebbe risultare Interessante Se qualcuno Apprezza le partite Condotte con una certa calma Proprio a questo profilo Di giocatore Ha pensato la Natsume Che dai tempi Del Super Nintendo Cura la saga Di Harvest Moon Il primo episodio Per la Playstation 2 È un titolo Dalle dimensioni Ridottissime Un programma Di appena 90 MB Che tuttavia Contiene tutto il necessario Per poter Adempiere Ai doveri Di ogni Harvest Moon Che si rispetti Quindi c'è una grafica Essenziale Ma comunque simpatica Ed un villaggio Con tutti i personaggi Necessari Per offrire Una trama decente Il nostro compito È quello Di curare La fattoria Di nostro zio Che è morto Prematuramente Il vero problema È che ci sono I soliti aguzzini Che intendono Appropriarsene Cercando di mettere Al suo posto Un grande parco giochi Ed un centro commerciale Una classica storia Di cattivi Quindi Ma nel tempo Che ci rimane A disposizione Nel gioco Quindi circa un anno Dovremmo cercare Di convincere Tanto gli abitanti Del villaggio A supportarci Quanto gli aguzzini Ad esistere Dal loro progetto Se vi piace Harvest Moon Non ci sono motivi Per i quali Non dovrebbe piacervi Questo save Di homeland Semplice Umile Ma anche divertente È uscito però Solo su playstation 2 La Ubisoft È sicuramente Una compagnia Dall'occhio lungo E non perse tempo Nel 2001 Ad adeguarsi Al trend Che stava già nascendo Dei party games Cercando di Affidarsi Come già faceva La Nintendo Con le sue mascotte Al suo volto Più celebre Quello di Rayman Oggi ha ripiegato Completamente Sullo spin off Con i Rabbits Ma all'epoca Decise di produrre Questo Rayman M Noto invece Negli Stati Uniti Come Rayman Arena Uscito da prima Per playstation 2 E poi convertito Dopo circa un anno Per tutte le altre Piattaforme PC compreso È un gioco Che prevede Semplicemente Delle lotte Dei combattimenti Fra i vari personaggi Del brand Ubisoft Che possono tuttavia Ritrovarsi anche A competere In vere e proprie Corse podistiche Non si può dire Forse che Rayman M Sia un brutto gioco Ma sicuramente Non è passato Agli annali Per la sua qualità La Ubisoft Del resto Ha preferito Abbandonare Questa denominazione M Preferendo Altre V Appunto Come abbiamo già Anticipato Per supportare Il trend Dei party games Per i fan Della melanzana francese Tuttavia Un episodio Di indubbio Interesse collezionistico Quella che scorre Nelle immagini È una delle esclusive Più riconoscibile Dell'intero panorama Di videogiochi nintendo E quegli esserini Che si muovono Freneticamente Sullo schermo Sono i pikmin Degli alieni Degli extraterrestri Davvero buffi Che chissà Per quale ragione Si ritrovano Su un pianeta Sconosciuto E pieno di ossigeno Assolutamente letale Per i pikmin Di conseguenza Loro hanno Soltanto 30 giorni Prima che il loro Supporto vitale Si esaurisca E devono cercare Una maniera Per fuggire Da questo pianeta Nelle 30 missioni Di gioco Dobbiamo sfruttare Le peculiarità Dei pikmin Di vario colore Prevenire a capo Degli enigmi Proposti Si tratta di un prodotto Straordinariamente Giocabile Ed originale Non molto lungo Che però Ha avuto un grande successo Al suo debutto Vendendo oltre Un milione di copie Peccaso però Che poi sulla Wii Si è stato completamente Dimenticato Alla nintendo Forse anche perché La riedizione Non è stata poi Così apprezzata Da videogiocatori E critica Forse perché Troppo uguale All'originale Ad ogni modo Un titolo da provare Almeno una volta Per noi appassionati Di retro gaming L'esistenza delle Compilation Di vecchi giochi È davvero un toccasana Soprattutto quando Sono fatte bene Come quelle della Namco Questa che stiamo Osservando È Namco Museum Una collezione Già vista su altre Piattaforme in passato A partire da Nintendo 64 Playstation E Dreamcast Però solo dalla console Nintendo E da quella Sega Sono stati presi I giochi Presenti anche In questa edizione Per Playstation 2 Gamecube E Xbox Tuttavia Soltanto per il territorio Americano Non si sa per quale motivo Ci sono anche Giochi inediti Tra virgolette Ovviamente Soltanto per quanto riguarda Le collezioni Come Pacmania E Pac Attack Non si sa per quale motivo Forse perché Viene ritenuto il simbolo Della Namco C'è stata una particolare Attenzione per la pallina gialla A parte questo Sono presenti anche Dei graditissimi Remake Come quello di Galaga E Dig Dug Due altri Grandissimi Classici Una ghiotta occasione Quindi per farsi un po' Di cultura Agni 80 E' chiaro che Ormai le compilation Sono talmente diffuse Che forse non c'è più Bisogno di questa Namco Museum Peccato però comunque Che la casa giapponese Abbia limitato L'offerta al solo Territorio americano Con il passaggio Della Playstation 1 Alla Playstation 2 Il team Naughty Dog Ha perso la sua mascotte Che era diventata Anche la mascotte Della console Sony Relativamente Parliamo di Crash Bandicoot Acquistato poi Dalla Vivendi Di conseguenza I Naughty Dog Hanno deciso Di concentrarsi Su qualcosa di completamente nuovo Ed hanno inventato Questo Jack and Dexter Si tratta di due personaggi Di pura fantasia Che non fanno riferimento Ad alcun animale esistente Jack è un umanoide mutuo Ma atleticamente Molto prestante Mentre il suo compagno Di sempre Dexter E' anche egli un umanoide Ma lo rimane per molto poco tempo Dato che subito Gli succede qualcosa Di davvero brutto A parte questo E' lui che sarà quello Che si occuperà Di tutte le chiacchiere Necessarie per Farci compagnia Durante il gioco La coppia funziona E la Sony Ha avuto molto piacere Nel supportare Nuovi episodi Di questa saga Ma parlando Di questo debutto Di The Precursor Legacy Come sottotitolato Possiamo dire Che è un platform Davvero Con i controfiocchi C'è molta azione Molto veloce E' davvero un platform Nel senso stretto Della parola Il jump and run E' davvero La parte più importante Di tutta l'esperienza I combattimenti ci sono Ma sono secondari La grafica inoltre Era davvero un ottimo spot Per la Playstation 2 Dato che Poteva vantare Una grossa conta poligonale Ed un frame rate fisso A 60 Granitici frame per secondo Per molti videogiocatori Questo è anche Il migliore episodio Della serie Alquanto trascurata Dalla Sony Negli anni recenti La saga di Twisted Metal E' stata tra le più importanti Di quelle viste Sulla Playstation 1 Consisteva in Combattimenti veicolari Molto spettacolari Che erano anche Di una certa violenza Di conseguenza Lo sviluppatore Ha deciso Di tentare Anche di Produrre una versione Un po' più edulcorata Magari non per bambini Anche se Il primo nome del gioco Era Twisted Metal Kids Ma comunque Senza temi violenti Hanno quindi optato Per delle macchine Radiocomandate Che hanno comunque La loro potenza di fuoco La grafica E' abbastanza curata La giocabilità C'è sicuramente Ma secondo la critica Questo videogioco Non è paragonabile Ai tre episodi precedenti Difatti è il quarto Twisted Metal Probabilmente il peggiore Di tutta la storia Per fortuna Non è un brutto gioco E lo dico soprattutto Perché è l'unica uscita Per la Playstation 1 Una pulsazione Se la concede anche Il Nintendo 64 Che si gode Il terzo episodio Di Tony Hawk Pro Skater Un ottimo gioco Programmato divinamente Sulla console Nintendo La sfrutta veramente In maniera dignitosa Anche perché Riesce a bantare Una colonna sonora Cantata Campionata anzi Quindi davvero Difficile da fare Su cartuccia Fra l'altro Questa colonna sonora E' anche di qualità Meno compressa Quindi molto più Orecchiabile Dall'output Precisamente più gradevole Il gioco inoltre E' quello che conosciamo Da sempre Molto giocabile E un po' monotono Perché c'è da fare Sempre i soliti trick Dall'inizio alla fine Però a chi piace Il genere Può sicuramente Trovare in questo Tony Hawk 3 Un ottimo prodotto Assolutamente consigliato Ancora oggi Quasi tutti Credevano che Questo Natale Sarebbe stato Tristissimo Per la Dreamcast E per tutti i suoi possessori Ed invece Ecco spuntare Shenmue 2 Il seguito Di uno dei titoli Più importanti Di sempre E' uno splendido Canto del cigno Per questa console Anche se L'idea di Yu Suzuki Poi non E' perfettamente Idonea A tutti i tipi Di giocatori E questa è anche La ragione Per la quale La Siga Non è riuscita A ricavare Dalle vendite Di questo prodotto Abbastanza soldi Da poter compensare Alle mastodontiche Spese di sviluppo Di questo Shenmue 2 A coloro i quali Danno al gioco Il tempo Per ingranare Però si apre Un universo Meraviglioso Fatto di una storia Estremamente coinvolgente Ed emozionante E un mondo Pulsante Pieno di cose Da fare Shenmue 2 Può considerarsi Opera d'arte Tanto per i contenuti Stilistici Che per quelli tecnici Dato che Rappresenta anche Un'ottima prova Per la Dreamcast Dal punto di vista Grafico Un gioco storico Che purtroppo Questo possiamo anticiparlo Non regala al giocatore Un finale definitivo La storia di Shenmue È ancora in sospeso E tutti pregano Perché qualcuno Decida di riportarlo In vita Su una console Qualsiasi Della nuova generazione E così Io vi lascio Alla ricerca Di questo splendido Videogioco della Siga E vi saluto Perché la macchina del tempo Di dicembre 2001 Finisce qui E noi ci risentiremo Per quella di Dicembre 1991 Ormai Se volete tuttavia Potete regalarci Una vostra riflessione Opinione O ricordo Qui nella pagina Dei commenti Sarebbe come sempre Molto gradita Arrivederci Alla prossima puntata